E' in stato di coma presso il Policlinico di Bari, il dipendente Amio investito da un'auto questa mattina nel quartiere San Paolo. L'incidente è avvenuto intorno alle 7 in Viale Lazio, nei pressi del mercato coperto. L'uomo, un 27enne, stava svuotando i bidoni dell'immondizia quando è sopraggiunta una panda condotta da un neopatentato che lo ha travolto. Il giovane si è subito fermato per prestare soccorso. Il 118 lo ha trasportato ad urgenza in ospedale dove è giunto in condizioni critiche. Sul posto è intervenuta la polizia municipale che sta indagando sull'accaduto. L'autovettura è stata sottoposta a sequestro.